Quando cambiai casa dopo il mio famoso incidente dal ponte, che la gente ancora oggi si diverte a ricordarmi, cercando di farmi del male, ma male non me lo fate perché non me ne frega un emerito cazzo di quello che è successo, mi dispiace solo che i miei genitori non mi hanno mai creduto, comunque io sono ancora vivo mentre gli altri sono tutti morti, questo è bello. Allora, perché da simili altezze nessuno semmai salvato, vi voglio ricordare. Allora, no perché poi dicono neanche il tevere da voluto, ogni tanto mi urlano, no non volevo cadere sul tevere, infatti non sono caduto nel tevere, sono caduto sull'asfalto, il punto più pericoloso, mai nessuno è riuscito a salvarsi. Ho controllato il giornale giorno dopo giorno attraverso questi ultimi 13 anni.